E' il turno della numero 12 Aurora Rampazzo. Aurora arriva da Almettoni, provincia di Vicenza. E' appassionata di danza moderna e di moda. Il suo palato predige il risotto al tartufo. Aurora Rampazzo. Aurora ci raggiunge dal Bettone, provincia di Vicenza, ha 19 anni. Nella vita cosa fai di bello? Nella vita faccio la commessa, però da grande vorrei diventare avvocato. Dice, avendo fatto ragioneria, vediamo di più riuscire a iniziare magari l'università o tant'altro. Ma come mai l'avvocato? Ti sei avvicinata così per caso? Ti sei trovato magari in un momento in cui hai detto, aspetta, in questo casino voglio risolverlo. No, che altro perché sono sempre stata una ragazza obiettiva e quindi insomma mi piace l'ordine in generale, diciamola così. È quadrata la ragazza. Ok, allora la passarella rettangolare, non proprio quadrata, è tutta tua. Concorrente numero 12 Aurora Rampazzo. 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 Adesso vado su serio a casa e poi torno su. Pubblico, chi sarà? Vincitrice di Miss Vitalitis Proenego. Finalista di Miss Provincia di Vicenza 2017 questa sera è... Aurora Rampazzo. Autora Rampazzo. Passarella ovviamente per la fascia vincitrice di Miss Pro Enego Eccola qua la nostra missa Sous-titrage ST' 501